Questa devi essere disinteressato prima, come se non lo vuoi ballare. Quello è il twist. Ma vedi che si muove bene, comunque, secondo me. Questa è la musica di Dele. Insegnami qua, insegnate. Facciamo un video di staccato di me. No, facci qualcosa di loro. Facciamo qualcosa di staccato di me. Non lo vedi, Raffaele. Grazie. 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 Grazie.